Benvenuti a tutti e vediamo, vediamo in questo video un tema molto interessante un approccio che fa letteralmente impazzire una donna efficace al 100% Allora, quando si tratta di avvicinare una donna è importante non apparire creepy cioè non apparire inquietanti perché se la donna ti percepisce come inquietante il maniaco che si avvicina, beh è ovvio che normalmente appunto si toglierà dai maroni quindi devi essere, diciamo intanto non avvicinarti troppo avvicinati più lateralmente perché sembri meno invasivo questo a livello di body language è importante poi quindi ti avvicini o a 45 gradi o anche un po' lateralmente ma è proprio di fronte poi fallo in modo sicuro di te, mantieni un atteggiamento positivo, sicuro, mostra fiducia questo è molto attraente, non essere arrogante cerca di rispettare lo spazio personale, non avvicinarti troppo perché se violi subito troppo la prossemica poi in un secondo tempo puoi farlo verrai percepito come, diciamo, invasivo e fai un bel sorriso, sorride, fondamentale mostrati interessata a conoscerla come persona anziché utilizzare frasi fatte, frasi in scatolate fare complimenti stupidi è molto interessante, no? invece essere naturali puoi iniziare con un complimento genuino guarda, perdonami se mi avvicino ti ho intravista da lontano e mi è veramente colpito il tuo sguardo il tuo sorriso e quindi mi sono detto devo proprio conoscere la piacere io sono massimo questo, diciamo evitando ogni commento sessuale, eccetera, eccetera perché sono negativi se lei accetta puoi fare qualche piccola domanda aperta in modo tale da stimolare la conversazione soprattutto ascolta attentamente è molto importante questo sia divertente e leggero ovviamente l'umorismo può aiutare a rompere anche il ghiaccio e anche a creare un feeling evitando assolutamente di essere invadente mai fare domande personali ma prendere le cose un po' alla larga cerca di capire se ha qualche interesse simile ai tuoi in modo tale da approfondire la conversazione e poi alla fine di guarda, io devo andare perché ho un impegno guarda, se ti va puoi lasciarmi il tuo numero magari ci sentiamo o eventualmente ti lascio io il mio ma meglio che letti del suo al 90% vedrai che otterrai risultati positivi se il video ti è piaciuto metti un like condividilo con i tuoi amici e iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e ti ricordo di seguirmi su tutti i canali YouTube e di abbonati al canale